Musica Salve a tutti ragazzi ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip e bentornati in un nuovo episodio di Factorio Perfetto siamo di notte come sempre Allora abbiamo finito la nostra tech Quindi la tecnologia l'abbiamo finita Andiamo a prenderci Munizioni all'uranio ragazzi Munizioni all'uranio E visto che scusate che l'ho chiuso Ho finito la tecnologia che riguardava la bomba atomica No l'avevo vista cavolo Le bomba atomica Questa quindi l'ho finita Allora ci ho messo un botto di tempo in realtà E quindi è per quello che non sono usciti gli episodi di Factorio Guardate qua il nostro rame si sta automaticamente ultramangiando da solo Guardate qua veramente ma sul serio ragazzi Perché i nostri treni non ci stanno portando il rame Qua è tutto vuoto Qua è tutto vuoto Qua è tutto vuoto Allora andiamo a vedere che cacchio è successo il treno Questo è di rame Ok dove sei Allora la ferro-grezzo miniera è questa Giusto È questa Ok Qui c'è già il treno Vai al lab Forse perché c'ha carico vuoto Però grazie a me c'ha carico completo Perfetto Ah ecco dove è il problema Perché questo non sta caricando completamente il carico Perché qua ti fermi Ah ho capito perché Ho capito Salve Allora lui non va perché qua hanno spaccato tutto Infatti Ecco perché non va Ok allora Visto che qua hanno spaccato completamente tutto Gli diciamo di mettere delle torrete Perché io voglio fare qualcosa Su fattorio E alla fine non riesco mai a fare quello che voglio fare Perché tu qua non vai Qua ce ne vuole un altro Facciamo che Ce lo mettiamo Adesso stai caricando Tu che condizione c'hai? C'hai Spero che lo dommigliere Carico completo O 105 secondi passati Eh va bene Qua ne manca uno anche Va bene Le mie torrette adesso sono qua Intanto comincerei a metterne una qua Che raggio c'ha l'azione questa torretta Scusate Un botto Bene perfetto Cominciamo a metterne una qua E un'altra qua Così non mi rompono più le palle Grazie E direi Che sono lenti a farsi Quindi Ne metto giusto un'altra ragazzi Poi E poi basta Non abbiamo ancora fatto niente Non ci credo Va bene un'altra torretta qua Ok Così almeno copre un po' Perfetto Allora adesso i training Dovrebbero funzionare Sostanzialmente Questo doveva andare qua Questo doveva andare In questa miniera qua E quindi lo stavo aspettando Perché Che partisse Diciamo perché Era occupato Infatti qua ci sono tutti i segnali Di A catena Quindi quello si era fermato là Bene Adesso che abbiamo fatto questo ragazzi Me ne frega un tubo Ho visto che stia aliena Ci stanno veramente rompendo le palle E con il dire Mi stanno rompendo le palle Veramente ragazzi Mi stanno veramente Scassandole Direi Che è arrivato il momento Di come cacchio faccio A fare sta bomba atomica Diciamo gli esplosivi Gli esplosivi Io li sto facendo Qualche parte Sti cacchio Gli esplosivi Secondo me si Per fare gli esplosivi Che cacchio mi serve Esplosivi Per dirupi No mi servono Questi esplosivi Carbonitolfo E acqua Ok Andiamo a vedere Se li stiamo facendo Ragazzi Perché se mi produco La bomba atomica Vado a fare una strage Allora Gli esplosivi Allora Quali sto già facendo In realtà Ma allora Siamo fuori di testa Come delle melograne Momento ragazzi Dove sei Dove sei Dove sei Tu Butta giù sta roba Che tanto Non mi serve un tubo Grazie Sto richiedendo No Perfetto E andiamo a prenderci Ti cazzo Di esplosivi Che non li trovo Già più Perfetto Eccoli qua Ma è possibile Che non si veda mai Un tubo Stacacchio Di mappa Del cavolo Metti delle luci A cazzo Ok E poi Facciamo una cosa Del genere Vai con gli esplosivi A parte che No Le rimetto giù Per il semplice Motivo Che Voglio fare La bomba atomica Quindi Missile Della bomba Eccolo qua Ah ma lo posso fare anche a mano No Mi servono i processori Cavolo E30 di uranio Cazzuto Molto bene Quindi io qua ci metto Una macchina assemblatrice Che mi faccia Ste cose Ragazzi Lo sto dicendo Con i denti stretti Perché sono incazzoso Va bene Che se ne frega D'elettricità No Le macchine assemblatrice Macchine assemblatrice Che Sto facendo Sto facendo E' anche Bastante In fretta Facciamogela Quella cattiva No Non ci facciamo Quella cattiva Perché mi serve Questo Un momento Ragazzi Adesso la vado a prendere Subito Ma subito La macchina assemblatrice È questa Grazie Così l'abbiamo fatta Immediatamente Ma la retta elettrica Che cazzo sta succedendo qua Oh cavolo Sono scaricati No Non si sono scaricati Gli accumulatori Ce la fanno Ce la fanno Sì andiamo un po' In emergenza Ma vabbè Poi ci guarderemo Esplosivi Sono qua Perfetto ragazzi Prendiamo la nostra macchina Assemblatrice Cazzutissima E la metterei Anche Ma si qua ci sta E qua gli dico Mi fai le bombe Tomiche Del cavolo Grazie Qua invece Ci mettiamo il robottino Che butta dentro Qua La Mamma mia Ragazzi Adesso Spaccare le chiappe In una maniera Impressionabile C'è una cassa di richiesta Ci sta Qua invece voglio quella da richiesta Qua invece voglio quella da richiesta Il robottino da richiesta E qua io ci vorrei mettere le piastrelle blu Mi richiedi per favore delle piastrelle blu qua? Le piastrelle blu qua Ok 100 sono più che sufficienti Quando me le portate C'è roboport qua vicino ragazzi Quindi me le dovrebbero portare E io mi andrei a prendere A Andrei a prendere altre di queste scatole Perché mi serve un altro ingrediente Quale ingrediente mi serve? Allora intanto ci mettiamo quello che butta dentro qua E mi servirebbe L'ultimo ingrediente che mi manca Sarebbe l'uranio Quello Cattivo 100 vanno più che bene E intanto ci metto Già dentro Le mie Oh 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 Le gisapest dentro Ok E tu mi dovresti Cominciare a lavorare Quando ne servono 30 Sul serio 30 Produttività per favore Non si può fare Velocità Stai mi stai cacchio di bombe Per carità Perfetto ragazzi Direi che è più che perfetto È perfettissimo Allora intanto che lui mi sta producendo Cendo Ciccendo Queste robe qua Andiamo a vedere Quanto carbone Che ne abbiamo veramente Un bottiglione E avere un bottiglione di carbone Non è facile Sta previsto 267 Quindi questo sta avvenendo Solo che qua ci sono 5k e 3k Toglimi sta roba Toglimi sta roba Per favore Dai Fagli la richiesta E non rompereva Così abbiamo anche un po' di carbone In richiesta Che tanto Cioè non serve Un giubo Ma che bello che è questa cosa qua Sono sempre soddisfatto Del mio lavoro E operandi Allora Qua Il reattore nucleare In realtà ha finito Il suo combustibile Quindi perché ha finito Il suo combustibile Cazzo Ah perché c'ha queste cose qua Ok va bene Allora Queste qua ce le riprendiamo E noi dovremmo riuscire A riempirle Queste cose qua Quindi Per riempirle Gli diciamo Anzi Cioè lui me le butta fuori E me le mette qua Così Ok Qua c'è un roboporto Qua vicino Dimmi di sì Che non è vero Che non è vero Minchia Vediamo Roboporto Roboporco Dove sei roboporco Roboporco Qua Allora ci facciamo Il nostro roboporco Perché Mi serve La rete logistica Qua Il più vicino Vediamo un po' Dove cavolo è Tra l'altro Non li vedo Come cacchio Faccio vedere Sti cose Ma infatti Vedete che non arriva Non ci arriva Però ne abbiamo Uno qua Uno qua Il roboporco Per favore Adesso lo mettiamo Thank you Ma non serve un cazzo Metterlo qua Eh ma me ne servono Un fotiglion Ok E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè Allora Visto che me ne servono Un fotiglion Ce ne mettiamo Un fotiglion Grazie Tre roboporchi Intanto che noi Adesso li facciamo Dobbiamo cercare di Mettere questi Cosi qua E riempirli Allora Per riempire Sti affari Direi che qua Lui sta producendo Sta producendoci Ciucendoci Il Ma cacchio Guarda quanta roba Mettili qua Qua cosa stai facendo Stai facendo questi Qua stai facendo questi Qua stai facendo dell'uranio Ma cacchio Quanto cacchio Di oranio Non male Non male A fin dei conti Tu robottino Che cavolo stai buttando dentro Qua Non si sa Ok Allora Come faccio A Riempirli Tipo questi Barri combustibili Di oranio Trasformazione di combustibile nucleare Ah no Io vedi posso Trasformarlo Dove lo produco Nella mia cosa Da schifo Quindi mi serve Una centrifuga Che è questa Cosa mi manca Per fare la centrifuga Il cemento Che non avrò mai Mamma mia Ok ragazzi L'ho trovato Era qua E Adesso ce lo prendiamo Perché mi serve Da fare la centrifuga Tra l'altro Forse potevo anche richiederlo Ma va bene Facciamoci subito La centrifuga Ok Centrifuga fatta Togli sta cosa Andiamo Torniamo laggiù Tanto che si fa La centrifuga Poi ragazzi Andiamo a spaccare Un po' di culi Perché Tut 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 Mamma avete veramente L'ho trovato Sì sì Ok adesso prendiamo La nostra centrifuga Ancora facendo Un Cosa Blam 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 Perfetto Abbiamo fatto un Blam 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 Cioè la ricerca Sarebbe Ma che cazzo c'ho oggi Vabbè Questo cos'è Tornò No Velocità di ricerca Dei lavoratori Quasi quasi No Cosa facciamo Va forza frenante Che cos'è Trova Missilistica esplosiva Vai Concentriamoci Un po' di più Sui missili Intanto abbiamo fatto La nostra centrifuga Che la mettiamo qua Attualmente In primis Sì Esattamente Proprio qua Poi qua Io direi di metterci Un insertore Che butta fuori No Non è vero Scusate Questo qua No Sì 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 Che butta fuori qua Allora E ci diciamo Di mettere questi E di mettere questi qua Qua ci mettiamo Una cassa di richiesta Così intanto I robotaini Mi porteranno La roba qua Cassa di richiesta Che le avevo fatte In realtà Adesso andiamo a vedere Che cacchio sono Dove è che lampeggia? Non c'è più Eccola qua Visto? Avevo detto Che l'avevo fatta E la mettiamo qua Ok La mettiamo qua E gli diciamo Di richiedere Tutto il possibile Sti materiali qua Del cavolo Quindi richiesta logistica Questi vuoti Per favore No Fatte proprio Un bel po' Ok Questo qua Ci serve Solo questo E mi trasforma In questo Qua diciamo Produttività Si può? Non si può? Velocità? Non me ne frega un tubo Ah ok Allora quindi adesso Mancano i robot porchi Perché Vabbè anche se non è proprio precisissimo Non me ne frega niente Lo metto No ma c'è già la roba porco qua Ma che cacchio? Allora dov'è che lo dovevo mettere? Scusate Ah lo dovevo mettere qua Va bene qua lo stesso E direi che l'altro lo metto qua Possibilmente non sopra Esatto Vabbè Qua Ok Adesso dovrebbe essere Coperta questa parte qua Giusto? Pettiamo un po' E questa parte qua dovrebbe essere Marchia c'è la miseria Sti cacchi di luci Esatto Lui mi dovrebbe venire A prendere questi Esatto E me li dovrebbe Infatti me li portano Attenzione E tu? Dovresti cominciare a lavorare? Fantastico Si Ha la velocità di un Bradipo Ma ce la stai facendo Ok perfetto ragazzi Adesso che abbiamo la nostra Cosa Mi direi ci Mi direi ci Di farci un bel Ma le mie armi classiche Tipo Ok Io dovrei fare le mie armi classiche E il lanciarazzi Non l'ho ancora fatto E questa non è una bella cosa Perché direi di mettere giù Il fucile Anzi Si 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 Mette giù il fucile Mette giù le cartucce E ci prendiamo Un bel lanciarazzi Perfetto Adesso Con il nostro Lanciarazzi Andiamo a prenderci Un bel po' di Munizioni Vediamo quanti ne ha fatte Eccoci qua Nucleari Stiamo scherzando Vai vai E ora mi avete rotto le palle Quindi Allora Mappa Cominciamo da I più fortunati E i più fortunati Sarebbero Tipo questi Ammettate per ricominciare La foresta qua Non è più un problema Adesso Giusto? Questa foresta qua Non è più un problema Ok Allora Voi non siete più un problema Scusate Eh Mi dispiace ma Sapete com'è Una volta che abbiamo fatto Ste cavolo di Ah Guarda che bel Missilazzo che arriva Oppela Eh Avete visto? Eh Voi mi avete proprio Rotto i coli I coli I coli E quindi Ci dovete morire Oh Vedete? Eh No Puttana Aspetta un attimo Anche voi Guardate che bello Ragazzi Questo si che Sono soddisfazioni Eh Sono soddisfazioni Sono soddisfazioni Attenzione Stiamo praticamente Irradiando il pianeta E distruggendolo Ma chi se ne frega Noi siamo Cattivissimi Sono cattivissimo Me Due Allora Qua hanno finito Le nostre munizie Che cazzo stiamo Stiamo andando a riparare Quello Ma bravo Ah Prendi le metà E mettili qua Che si se ne frega Non credo che arriveranno Ancora O meglio Ah Io ci spero Guardate qui Ma stiamo scherzando Ma chi è che fa Le colonie qua Non si può Percheggere lì Porca C'è la miseria Ragazzi St'arma Ah si Ah si Ah si Ah si Ah si Voi tutti Dovete morirci Voi dovete morirci Voi dovete Morirci Via 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 Ma che cavolo Ok No Guardate che bella pulizia Che stiamo facendo Ma adesso Chi è il re Chi è lo re Perfetto Voi assistete Alla fine Della vostra esistenza Visto come avete Rotto i coglioni Per tutti i gameplay E ho detto Vabbè Non lo taglio Vada così Vada così Spara 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 Ma che cacchio Te ne frega Spara No Vai così Ole Mamma mia Che rotture Ragazzi Che hanno fatto Questi No Ok Uh Ok Vai Guardate Che pulizia Allora È arrivata L'impresa Di pulizie Questo sì che si sta Ora sì che si sta bene Ora sì che si sta bene Ole Facciamoci proprio tutto il giro Ragazzi E andiamo a sterminare Un po' di sti Cosi Qua non si passa Tutta sta foresta Ragazzi Non sta passando Questa roba Che avete fatto voi Perché siete morti qua Nessuno vi ha tirato Dei missili Eh Ma che cavolo vuoi Scusa Che cavolo No 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 Scusate ragazzi Come cavolo Era il tasto Per cambiare le armi Che con tab Non funziona più No Adesso funziona Non ho capito perché Ok Ok No perché se gli tiravo Tipo il missile nucleare Quella distanza lì Credo che fossi Defunto Tira sto cacchio di missile Dai che ce la fai Ok Scusate Dovrei passare Ma perché siete qua In mezzo alla foresta Che Cioè Ma allora volete proprio Che vi distrugga la foresta Dai E sparagli Guarda che si stanno preparando I bastardi Preparatevi ora Ups E beh È la vita ragazzi Anzi no È la morte Oh cavolo Non si passa qua Ehm Riempimento Che ora si passa Bene Guardate che Allora Lo potrei usare Anche come fonte luminosa Non sarebbe male Perché no Vedete io faccio così E illumino tutto No Voi non avete capito bene Pa 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 Voila Ehm Ebbè Ok Credo ragazzi Che abbiano capito Chi comanda Anche perché non ne ho più Cacchio non ne ho più sul serio E Niente Vedi voi Brucerete così Ok Voi Scusate Non si vede un tubo Ma Mi ha defede Vabbè Allora adesso ragazzi Io dico Io dico Decolliamo E nuclearizziamo Questo è il solo modo Per stare sicuri Abbiamo nuclearizzato Praticamente Già D'apertutto Ma Allora Nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Vedremo di caricare Quello che serve Scusate Un attimo che ci arrivo Un attimo che ci arrivo Direi di caricare Cioè Di farci il nostro satellite E lanciarlo in orbita Perché I nostri componenti Dovrebbero già Aver Aver già tutto Il necessario Qua Se qua ci sono tutte le linee piene Praticamente E guardate Il nostro silo per razzi È completamente Vedete Possiamo fare lancio Perfetto Quindi ci manca solo Il satellite Per fare il satellite Ragazzi Ci serve Assolutamente Assolutamente Cosa è questo? Un fotoparlante? No Mi servirebbe un satellite In realtà Satellite Satellite Ma dove è Cavolo? Perché non trovo mai niente In questo gioco? Perché non trovo mai niente? Eh sì Dovrebbe essere A forma di satellite Dove è cacchio? Mi aiuto Eccolo qua Oh fantastico Mamma mia Per fare il satellite Servono 150 combustibili Per razzi 100 pannelli fotovoltaici 100 conutori elettrici Abbiamo praticamente Tutto Tutto ragazzi Abbiamo tutto Possiamo farlo Ma lo faremo Nel prossimo gameplay Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mettete un like Se non vi è piaciuto Mettete un like Se oggi avete mangiato Mettete un like E se è mattina Fate colazione E per Poi guardate questo video Quindi Ci vediamo Ci vediamo al prossimo episodio Da vostro Leontrip Ragazzi Sempre su Factorio Adesso Ragazzi Scusate se non è arrivato Factorio In questi ultimi tempi Però spiegate il motivo All'inizio del video E Prossimamente Arriveranno anche altre serie sul canale Di cui una serie di sopravvivenza nuova E perché Deve esserci una serie di sopravvivenza sul mio canale E Poi vedremo Ok Ragazzi quindi Vi saluto e vi do appuntamento Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti